Ciao e benvenuto ad un nuovo video della nostra nuova rubrica Angel Astrology. A breve, tra pochi giorni, il Sole entrerà nel segno della bilancia e quindi andiamo a vedere qual è l'arcangelo che governa questo bellissimo segno, ed è l'arcangelo Jofiel. Quindi il periodo del segno della bilancia è dal 24 settembre al 23 ottobre, così riportato nel libro. Jofiel è l'arcangelo della bellezza, quindi è perfetto per la bilancia, il segno governato da Venere, pianeta dell'amore e della bellezza appunto. Andiamo a vedere che cosa ci consiglia di fare l'arcangelo Jofiel. Puoi rivolgerti all'arcangelo Jofiel per varie ragioni. Innanzitutto per le questioni legate all'amore, per migliorare l'autostima riguardo al tuo aspetto, per rimettere in moto il flusso dell'abbondanza e su questo se vuoi io dopo sotto ti metto anche il link al mio webinar appunto sul corso dell'abbondanza. Se hai il cuore infranto, quando vorresti conoscere meglio una persona incontrata da poco, quando stai per ristrutturare una casa, la tua casa, quando ti senti stanca ed esausta, se stai per investire molto denaro in un articolo di lusso, se sei un artista che lavora ad un importante progetto. In questo caso anche, se hai a che fare con la creatività, Jofiel è l'arcangelo che meglio ti può aiutare. In questo caso io ti consiglio di usare l'essenza di Highlight appunto dedicata all'arcangelo Jofiel, il cui nome appunto significa bellezza di Dio. È facilissima da usare questa essenza, infatti basta vaporizzarla così, circa 5-6 volte e lasciate che la fragranza vi riarmonizzi. È un'essenza che lavora, come tutte le essenze di Highlight, sul suono e sul colore, come vedete è legata appunto al colore giallo e va a una profumazione delicata e leggera e se ne consiglia per un periodo minimo di 3-4 settimane che più o meno è una confezione grande. Questa è la piccolina ma non ci sono più e lo potete utilizzare circa 5-6 volte al giorno ma anche poi all'occorrenza, quindi tutte le volte che ne sentirete l'esigenza. Nel box sotto ti metto sia il link al sito e al prodotto, sia il codice sconto C003 che puoi inserire al momento dell'acquisto, così appunto riceverai lo sconto che è per tutte le persone che seguono le leggi della magia. E questo appunto essendo un'essenza legata alla bellezza e alla creatività, l'arcangelo Jofiel è appunto l'arcangelo del segno della bilancia, quindi di questo periodo. Mi sembrava utile per armonizzarsi con queste energie appunto. Quando il tuo equilibrio lavoro vita privata è sbilanciato, se vuoi fare pensieri più belli, se stai litigando con le persone che ami per rendere la tua vita più varia e interessante, quando stai per affrontare una trattativa importante finanziaria o di altra natura, quando sai che dovrai essere diplomatico e già sai che ti risulterà difficile, puoi chiamare Jofiel e dirgli fai che non uccida il mio interlocutore, perché comunque essendo un arcangelo legato appunto all'amore ti aiuterà a diffondere quell'amore dentro di te e a fare delle trattative più diplomatiche. Se hai il compito di aiutare altre persone ad appianare un diverbio, quindi hai un altro ruolo ma c'è sempre una disputa. Per aiutarti a lasciare andare ciò che è vecchio, quando hai bisogno di fare ordine eliminando cose inutili o di trovare una buona consulenza di Feng Shui, per essere motivato a pulire la tua casa quando vuoi lasciare emergere la tua dea interiore. E infatti, una piccola curiosità, molto spesso Jofiel, è raffigurata come un'arcangelessa. Allora, spero che questo video dedicato all'Angel Astrology e al segno della bilancia ti sia piaciuto. Se non sei ancora iscritto al canale YouTube delle Leggi della Magia, fallo subito, così non ti perdi mai i nostri video e alla prossimo, al prossimo mese con l'Angel Astrology o ai prossimi giorni con il resto dei video del canale delle Leggi della Magia. Ciao!